Con la consegna delle chiavi dalle mani del sindaco Perazzetti a quelle del presidente di Ambiente S.P.A. Papa è stato ufficializzato l'affidamento in gestione del centro direzionale dell'Ibisco di Città Sant'Angelo. La partecipata comunale che si occupa dell'igiene urbana nel territorio angolano ha stipulato un contratto di rent to buy biennale da 35 mila euro al termine del quale Ambiente potrà esercitare l'opzione di acquisto dell'immobile. L'edificio è destinato a diventare il quartier generale della società ma anche un punto di riferimento per l'intero territorio vestino. Ha una duplice veste questa cessione. La prima di rigenerazione urbana era una struttura oramai in disuso da tantissimi anni all'interno del centro Ibisco che era comunque in una situazione di non decoro da tanti anni e che noi stiamo provando a riportare in auge. Dall'altra parte una centralità che Ambiente prende su tutta l'area vestina quindi non solo per Città Sant'Angelo ed ecco perché questo deve servire come punto di partenza per ampliare il progetto Ambiente anche nell'area vestina. Da questo punto di vista Ambiente potrebbe diventare quello che è Ecolan e poi per l'area frentana? Ambiente deve assolutamente assurgere a quel ruolo lì e deve soprattutto prendere essere protagonista soprattutto con l'impiantistica. A cosa servirà questo centro? Questo centro servirà sostanzialmente a diventare la base logistica dei nostri mezzi, dei nostri uomini, delle strutture di back office per l'utenza e quindi per migliorare il servizio su tutta l'area di Città Sant'Angelo e nel futuro potrà sicuramente diventare il centro di gestione per altri comuni soci che volessero affidare il servizio ad Ambiente.